Servirà agli operatori del turismo per raccontare e promuovere le iniziative che si svolgeranno dal mese di aprile. L'anteprima eventi 2022 è presentato questa mattina dall'assessore Etel Lucarelli alla presenza degli attori protagonisti del nuovo calendario. Una grafica accattivante, ricca di sfumature colorate, accompagna il programma di spettacoli e manifestazioni che si svolgeranno in città. Si parte sabato 30 aprile con il Fano Jazz Network e si prosegue con la Cole Marathon dopo lo stop dal 2020 e con il Gran Gala dell'Olio. Protagonisti del mese di giugno e mercoledì degli artisti e passaggi festival, il Carnevale di Fano si dividerà in due fine settimana. Il primo coincide con la fine delle scuole, in modo tale da coinvolgere gli studenti nell'evento che anche quest'anno, a causa della pandemia, ha dovuto rinunciare all'edizione invernale. Il secondo weekend invece sarà d'agosto, da sabato 13 a lunedì 15. Luglio poi è già ricco di iniziative, dalla musica alle revocazioni storiche con il Palio delle Contrade, fino al Festival della Fortuna, anticipato a venerdì 8 e sabato 9, e alla Fano dei Cesari, in forma ridotta e senza corsa delle bighe. Tra le conferme di agosto spiccano la Festa del Mare, il Paese dei Balocchi e la Fiera di San Bartolomeo, che cade sempre nelle giornate del 24, 25 e 26, mentre il Brodetto Fest rimane a settembre, come l'anno scorso, per via dell'incognita sull'evoluzione della pandemia. Troppo rischioso organizzarlo già per maggio. Tanti altri gli eventi già inseriti nell'anteprima, che potrà essere consultato sul sito visitfano.info e sulle pagine social correlate. Assessore ha detto che la città è pronta, qual è l'obiettivo di quest'anteprima eventi? Ma è uno strumento sia cartaceo, ma saremo pronti anche in tutti i formati digitali, a promuovere quelle che sono tutte le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità, quella che è la nostra creatività. Tutto quello che fanno è pronta a fare nella stagione estiva. Lo raccontiamo in un opuscolo eventi, lo diamo in mano agli albergatori, lo diamo in mano a tutti coloro che faranno fiere, oltre che fare promozione noi. Per dire che dopo questo periodo così delicato, già alla fine di gennaio, sappiamo raccontare quello che faremo nel periodo estivo e l'opuscolo racconta appunto che ogni weekend sarà pieno di attività che guardano alla letteratura, alla musica, alla creatività, all'enogastronomia, alla cinematografia, insomma a tutte le bellezze che le associazioni culturali cittadine riescono a esprimere. Non solo manifestazioni, ma anche itinerari e tanto altro. Sì, insomma diamo visibilità alla pagina Vaglia Scoprire, al progetto che abbiamo fatto con i 15 comuni della Vallata del Metauro e del Cesano, perché lì si trovano le esperienze che un turista può vivere quanto arriva nella nostra destinazione e quindi vogliamo promuovere questo, come vogliamo promuovere gli itinerari che faremo, come ad esempio itineris che porterà i turisti direttamente dagli hotel o dai campeggi direttamente a vivere l'esperienza nell'entroterra, ma raccontiamo anche i contenitori culturali che saranno pronti ad esprimere i nostri valori, come lo è in primis il Teatro della Fortuna, ma come lo è la Rocca, come lo sono i nostri musei che hanno una programmazione di apertura, insomma ecco, ci sembrava importante fin d'oggi dire a tutti, all'Italia, ma sperando che arrivano anche stranieri, insomma che fanno c'è, fanno e pronta a esprimere il suo carattere. Grazie.